Musica Anche la grande musica di scena al Forum Internazionale Economia e Società Aperta. Nell'ultima serata, prima della giornata conclusiva dei lavori, qui all'Università Bocconi, nell'Aula Magna, il pianista Andrea Padova propone agli spettatori pezzi di Joanna Sebastian Bach e del suo repertorio. Nella prima parte del concerto per solo pianoforte, il maestro Padova ha eseguito l'aria variata alla maniera italiana 989 di Bach e il concerto italiano 753 Allegro andante presto. Nella seconda parte spazio alle sue composizioni, dal preludio scritto in omaggio a Bach a pezzi contemporanei. Una serata all'insegna della musica classica ed autore dedicata a tutti i protagonisti del Forum. Una serata all'insegna della grande musica, maestro come mai Bach? Bach è una delle mie passioni di sempre e forse anche perché da quando ho vinto il concorso Bach in Germania, dodici anni fa, ho cominciato un'attività discografica per cui sempre più spesso mi viene chiesto quest'autore che comunque per me è sempre davvero una grande gioia suonare. È un autore che ha scritto della musica e che è un patrimonio dell'umanità, veramente. Grazie.